Brainiac si era impossessato di Atlantide, avrei potuto ringraziarlo, ma non era sufficiente. Il regno di Arthur Curry doveva essere cancellato dalla storia, dimenticato, perduto. Come ne itava. Ho trovato il luogo ideale, protetto dai predatori più feroci della terra. In passato, Arthur Curry ha ucciso mio padre. Ora che ho distrutto il suo regno, non mi resta che assassinare il re in persona. Soltanto allora avrò vendicato la morte di mio padre. Soltanto allora potrà riposare. A Aquaman invece, si fa forse avanti per vendicare la sua gente? No, si nasconde dietro a un alieno e un amazone. Ma questo non lo saverà. Di fronte a quel mostro alieno, quel Brainiac, quei tre finiranno come pesci al macello. E quando saranno morti, il mondo potrà ringraziare Black Mountain.